Ecco qua, vedete un'immagine succedendo a parte. L'autore è Gjolz, è un tedesco, si chiama Gjolz, Baltacar, Frost. Sì, io me lo chiamo un po' prima, intorno al 1820, però vedete che non è tutta la sua veletta, vedete, l'antipiato che lo vede con la prevenetta dei due moli, i moli della Tarna e i moli vecchi, io quello che si vede a portare tutto, ti arrivava con una cosa in fondo, un piccolo analfa, un'altra analfa, un'altra analfa, una storia di Crici e poi tu poteva direttamente invocarla nel porto. Ancora la successiva. Grazie, Odoriano, però la buona notte. Ecco, mentre qui accorto, naturalmente non poteva mancare in una nostra regione di Genova un santino. E questo cantino non è più una contemporanea della nostra Maddalena. È Cagherina Fietchi Adorno. Cagherina Fietchi Adorno è che porta adesso nella chiega dell'Annunciata di Portoria e la tua azione operativa è stata tra 500 e 600. Mi appoggio all'ospedale del Pamatone, che è l'ospedale che adesso è costituito dalla normalità. All'interno vedete ancora le truppure. Perché vi ho proposto tanta catena Fietchi Adorno? Perché viene cartificata proprio nel 1636. C'è un'enorme festa a cui hanno lavorato sicuramente la nostra Maddalena. Cagherina Fietchi Adorno, perché era una specie di cartificazione, non solo della catena Fietchi Adorno, ma anche di tutta la città. Cagherina Fietchi vedeva la canta, chiede ovviamente la vita. Cagherina Fietchi Adorno, con tutto rispetto per la Cagherina Fietchi Adorno, cagherina Fietchi Adorno, cagherina Fietchi Adorno, è sicuramente la canta più importantissima, anche per l'incredito che ci ha lasciato. In particolare, eravamo dopo la riforma, quest'estate, ci ha lasciato un trattato in bucatorio. Cagherina Fietchi Adorno, proprio per affermare nuovamente il contatto in bucatorio, c'è un trattato in bucatorio. Però qual era l'ordine del gioco, questo è importante, che voi usate? L'ordine del gioco che dominava Genova in questo periodo era l'ordine del gioco. Genova è stata, soprattutto, una città genistica. Questa biblioteca universitaria è nata sulla cale della biblioteca dei genuiti. La nostra università è un'università portata dai genuiti. L'immagine, il logo della nostra università, porta contro la croce di Genova, con Cagherina, che porta, naturalmente, la sua biblioteca di Genova. I genuiti operavano, per i casi che la testa più propria che chiedeva Genova, era la testa, in luglio, che era di Camp Francesco Caverio, che faceva una novella di Camp Francesco Caverio, perché era un caso di genuiti, un caso di zionario, a cui partecipare la società. e quindi l'ordine dei genuiti faceva il bello del gioco. Pensate che quando Papa Benedetto XIV decide di coprimere l'ordine degli genuiti nel 1684, a Genova non danno esemuzione all'ordine. Poi obbligarsi a farlo, ho torto a colo, con tanti grandi giorni. Non era possibile. Il 73. Prendetevi, fate la grafica, mi corrette, mi stavate la collega, quello che chiedete neanche voi, mi corrette, mi corrette, mi stavate la scuola, e fin dal 1784. Pagliavano in maniera tuttavia. avevamo parlato della sua santa e avevamo parlato del diavolo. Il diavolo alla massoneria. Nel 1636, soprattutto nell'ambiente non chiesa che è quello dei farmacisti, viene fondata la massoneria che si chiamava compagnia della felicità. Noi avevamo un collega che si occupava in modo particolare della massoneria. La massoneria era l'ordine che portava con te la ragione, portava con te la scienza, portava con te l'idea degli doministi, e portava con te la chiesa e portava con te un altro clericalismo. Molto. Pensate che, due anni dopo il Papa, nel 1738, lasciò una bolla di comunica contro i fratelli mazzoni o paramazzoni, come si chiamavano, pensato proprio all'ordine, all'ordine del gruppo. E poi vediamo un tipico giuramento marconico, che era un po' più tarde, diciamo, che era un'avozione, con a terra il papeto, e il tutto l'ordine che si chiedeva. La magia successiva. Ragazzi, Perodi, purtroppo l'amore è stata, ma sono anni di una grande intensità. Cioè, mi ha colpito una volta la pietra, perché mi è andato proprio a prendere un periodo che ha un nocciolo. Ecco, qui, fanno qui. Ok, qui, 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 qui. E poi, qui, 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 Oltre la cavella, ha un numero, e ha fatto un'immagine. Ci sono immagini di temi delle famiglie droga che finono, se la spacciono, ci sono temi di immagini di mettiere, di fiori, di pianto, di animali. Come fate? Voi chiedete di puntare i vostri conti su una di queste cavelle, quella che io vedo. Visto che siamo le minore di Maddalena, Giorgia, Pinola, puntiamo un eromo con la cavella di Maddalena e due eromo con la cavella di Pinola. Il compagno del piotto ha un macchietto come quello della cordola. e ha dei bigliettini con i numeri, perché ognuno ha delle caratterie, la prima ricetta c'è qualcosa di poco più no. I bigliettini vengono apportolati e messi in delle palline buccate chiamate ghiandette, le piccole e le piante. E nel buco delle piante che si entraeva uno, che voi avevate contato con la Maddalena e Vincente con voi, quindi sicuramente ha già vinto. E quindi vi dicevate che canta 6 volte. Quindi noi ci troviamo in Maddalena e dice che canta 6 volte. Allora, pensate ragazzi, io ero che è stato mille volte condannato dalle maschicature di te, perché vengono ad un angolo per fare un angolo interno, uno cinque, quattro anni, una angolo, nel fatto delle extrazioni di numeri. dovevate entrare i numeri alla volta, mettendo pure che i numeri casassi erano almeno che canta 6 euro, che noi avevamo giocato con canta 6 euro, gli chiamavano i pericoli, tutti gli chiamavano. E quindi ero di occo che era stato condannato, sapete? Come facciamo a capire che adesso la gente amava o odiava i dirigiti? Lo capiamo dal fatto che dalle lettere di cance. Allora, le lettere di cance erano le lettere anonime che dovete inscrivere quando spendevi un gioco o comunque un'oggette morale. Io voglio andare nel palazzo vocale, che era una cartetta della corta del lettere, che era la cartetta della vita e della vita di cance. C'è ancora da questo. Questi biglietti di cance venivano esaminati accuratamente dai pulitori di stava. Quindi, sappiamo che Piridic, che era una piaga che non gioca, aveva questi biglietti di cance che dicevano attacca di Maddalena, che gioca il Piridic, oppure attacca di una piccola spinola che gioca il Piridic. E cosa davano appunto? Partiamo. Questo è un po' più. Questo è un memoriaio della nostra Maddalena. e oggi, in quel momento, felicemente, neanche troppo, regnante tra il 1636 e il 10. di Corsica di Corsica di Corsica di Corsica di Corsica. e ci sono portati a Corsica di Corsica di Corsica di Corsica di Corsica. Non ha mai comparato i corsi alla Corsica di Corsica. Corsica di 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 Corsica e i corsi venivano utilizzati soprattutto come militari, come poliziotti, come figure secondarie della guerra. E i corsi andavano in modo particolare. Anche che i francesi, a livello e vero, molto di oggi, ma probabilmente è una questione di più. E nel 1736, solicitato dai dèi di Corsica 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 ecco qua, sotto la piazza, ecco qui il favore a Teodoro. Allora, Teodoro è andato a Colonia, ecco, sederco, come appunto avete veduto, un'avventuriera. È il periodo dell'avventuriera. Corsica di 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 Corsica. No, siamo cercano di fare, avete avuto anche qualche avventura, nobile del posto, e avete addirittura dei rapporti compiliegati con le scuole brigidine che sono anche in compra degli altri. Tenete conto che parlavamo della confezione della Roma? Terribili, anche le confezioni delle donne nobili. Non li parchevano di studiare, troppo. Al massimo capessero leggere, scrivere, suonare piano e parlare fino a pieno appunto. E dovevano studiare il contatto tra gli istituti religiosi, perché non si potrebbero lasciare una donna a scuola. Riccate che quando il pubblico è stata la sua donna laureata nel 1884, la portavano in giro come fosse un pedonimo paracolio. Quindi voi potete immaginare che potete leggere. Quindi voi avrete sicuramente letto, sentito la storia della monaca di Monza, del maggiore di Contretta monacale contro voi. Questi istituti religiosi diventavano una specie di, come dire, assistenzialismo coato, dove queste povere donne a cui la famiglia non dava più la dote dovevano ritirare il convento per evitare di creare problemi familiari, climatici ed economici. Almeno qua circolava un terribile proverbio sul laboralistate di Monza. Il proverbio dice Monarchi di San Gregorio, poi San Gregorio è stato bombardato, Monarchi di San Gregorio, quattro gambe sotto dei suoi. Cioè, la probabilità delle monarchiche era quello che era, terzo che per le donne non c'era sicuramente di tutto, meno di norma. Maddalena, Maddalena Doria, ha sicuramente avuto in merito le possibilità, che per voi erano veramente dei due persone della popolazione, di poter arrivare a vivere con una grande responsabilità che non sappiamo, che la qualità romediale fosse stata veramente finita. Passiamo all'immagine. Quattro gambe. Ecco. Ma, com'erano questi popolari genovesi che potrebbero incontrare per la strada nel 1000... L'unico modo, ma un bellissimo modo, è quello di vedere i brevi. Soprattutto, secondo me, è particolare di andare a vedere l'ingeggio della maddonetta, che è fortunatamente aperto con l'anno, la maddietà è andata, cioè prima fermata, apposta nella funicolare, tra i rivi, e vedete com'erano vestiti i classi, la cittadina, del corforo e dei nobili della testa. Continuando il dimentico del tesoro di New York, nel tesoro di New York, riesce a farci proclamare re di Coppica, e riesce a rendere legno per cattegliergli, per tutto il mondo della cittadina. Poi, ce ne va, e ce ne va, e ce ne va, e ce ne va, a chiedere l'aiuto dei franceschi, che poi finirà per il corforo della cittadina. Nel 1800, la cittadina era ceduta definitivamente alla Francia. e guardate l'economia della cittadina. L'anno, cioè l'economia della cittadina, da una famiglia ligure, di origine ligure, perché i Bonaparte erano di Cargara, e la famiglia della mia mamma erano di Iberia, del Sincero Morino, e l'acqua, Napolino della cittadina. Però Napoleone, da una parte, da buon corposto, che è una parte dell'ospettacolo, non vi era mai indulgente nel suo corposto. Anche che permetterà, in due momenti, di fargli vivere l'economia, addirittura di fargli eserciare la nuova e controllo. Credo che fino alla fine la cittadina, la crocetta? Sì. Sì? Sì. Chi ha ancora una cittadina? No, non ci ho più. Questa catena? Sì. Ecco, in giugno, gli hanno tornati nel Palaccio. Siamo fatti un giro per la città, per l'amministrazione della città, e gli hanno tornati nel Palaccio. Ora, ti prego, quello che vi ha necessitato. Dico, avete domandato anche funzionali, anche funzionali, al lavoro che pagano il credito, che qualcuno delle mie, dei miei interventi, delle mie osservazioni, e lei non le viene fatto, e io scrivo perché, secondo me, non ci siamo accati. sono, a volte, la rifugio, però appiccinate, perché come avete notato, portano il Palaccio, no, no, non tutti. Quello che mi fa la domanda, perché portano il Palaccio acustico, e sta lontano, fa male. Avete una domanda, poi potete basarmi qualche dubbio, qualche... non chiedo per le altre domande, ma anche per il Palaccio, quello che viene da me. Una domanda ce l'ho io. Sul cicisbeismo, no? Sul cicisbeismo. Sul cicisbeismo. Tu hai detto che, i cicisbelli, avevano questa funzione, anche compensativa, perché le donne, della novità, tutte le donne, venivano, diciamo, ammogliate, per questioni di interesse, quindi, non era sicuramente, una vita d'amore, quella che si prospettava nel matrimonio, se non poi, raramente, per casa, ecco, ragione. Quindi, diciamo che, da un punto di vista, sentimentale, il cicisbeo, poteva compensare, questa mancanza, affettiva, anche della dame, della novità genovede. Però, alcuni studiosi, proprio anche Farinella, il nostro collega, hanno messo in rilievo, il fatto che il cicisbeismo, fosse anche, per gli uomini, una forma di contenimento sociale, perché erano quasi tutti, i figli, che non ereditavano, no? I cicisbeo. Certamente. E quindi, diventavano poi, dei giovani, che erano un po' scapestrati, potevano fare anche, dei danni, nel senso, che si riunivano poi, in bande, diventavano, ecco, delle bandi, delinquenni. e quindi, tenete conto che, come, tenete conto che, il nostro Nicolò, finora, arriva la cuacicipea, e anche la nostra Maddalena, non è scarsa di capelli, perché non poteva, non averlo. e quindi, anche nel caso della Maddalena, c'erano i figli, vero, quindi, era una storia, di compensazione, effettiva, per entrambi. Chiaramente, un gioco condotto, come giustamente, rilevito, da parte marchile, perché, componente marchile, si, avevano, però, diciamo, che il rapporto, poi, era molto servile, no? per il cicilideo, e quindi, di fatto, era anche una forma, tra virgolette, emancipatoria, per la donna, perché poteva, muoversi, di più, no? in città, per esempio, cose che non avrebbe mai potuto far da sola, le poteva comunque fare, perché aveva il cicilideo, quindi, ci sono anche i lati, bellissimi, con il cicilideo, andata, a cercare, nello specifico, nel campo di protetto, per con la gira, a qualche altro, non è stato fatto, non è stato fatto, ma, perdonò, non è stato fatto. Parlando dei costumi, dei costumi, dei ricordi, faccio riferimento al presiedere, allora, infatti, abbiamo detto che oggi, non avessi più costumi, non avessi più costumi, non avessi più costumi, è vero? cioè, sparata, essi. ho detto delle carte, a Genova, la nobista, vendita di nero, e che distribueva vendita di nero dagli altri, perché, uno che non era nobile, non poteva dare vendita di nero. quando Condoni, viene nominato concore di Genova, a Venezia, la moglie, che dice, perché, che il concore, equiparato a un nobile, poteva andare a vendita di nero. Quindi, il nero, era veramente considerato colore del nero. E anche colore dell'eleganza, si era illegale a questo nero. e quello nero era il regativo di nero, non il regativo di nero. Ma questo era tutto proprio di Genova, soltanto? anche generale di nero. Però, Genova, in particolare, è una città, pura, del diserno, imparata, e comunque, anche molto, a titolo dell'età, perché, riperto alla cultura che si c'è in teca, Genova, città di religione, genuiti, di... Per esempio, proprio in questo periodo, la cultura è tantissima. Non so, la franzoni, la base franzoni, fonda franzoniana, la base berio, fonda fisica berio, fonda fisica berio, fonda di direzza di cultura, è una cultura religiosa, che guida anche, l'amministrazione. E' vero, che per contraposizione, nasce la franzoneria, però, la franzoneria, è, è una cosa davvero buona. Venga il fatto che, genova, non so, allora, come oggi, è il terzo, la città, che dà un impugno al peccato. Sì, non so, per dire, l'unica città che si è rivelata, che si è rivelata, che si è rivelata, che si è rivelata, che si è rivelata la città dove erano Sandroni, nel che canta, presto a luglio, e ancora a Genova. E la città, lì, fa certi esperimenti politici, è facile che sia a Genova. Quindi, questa città che si è cadendo, è una città che ha avuto, fortemente, a qualche volta, degli punti davvero innovativi, non divenire del periodo. Avete qualche altra corrispensione, domanda, dubbi? Io volevo. Ti viene piaciuto che te lo ha? Allora, io non ho capito cos'è il bambino. No. Biribicchio, non ho capito cos'è. Biribissi. Biribicchio. Giobbo. Biribissi. non ho capito cos'è. Biribissi, Biribissi. E il bambino, il bambino, il bambino, E poi, la derivazione del termine dal punto di vista onomatico non ve lo so dire. Ciò che era un nome del bambino. Invece, c'è venuto un altro dubbio di tipo onomatico, il bambino sembra quasi l'abitudine, si dice, di sotturare le orecchie. che c'è venuto nella scuola non masopeico e è derivata per questa persona. Molta cosa è? Quando c'è una persona che partiva unimamente non furano almeno un momento ma è un limite che cucurano le orecchie e le copre da dietro. Il bambino di un bambino quindi è passato sono andati in chebra e diceva eco, con gli avlocamentati al canale, che è l'origine di una cosa, è il significato della parola pronuncia ed è il simbolo della parola che è grande. Quando vuoi capire il simbolo che è una parola, che è dall'origine della pratica, perché non piace una parola. Non è altro che il tentativo di avere il tuo cuore di rispondere o di essere amato le macchine e di apportare le macchine di euro, di piano. Quindi, partendo con la pasta della parola, di parola, di parola, di parola, quando avete un colipatato, siete più in grado alla realtà. Grazie. Tu hai parlato delle madonne, le varie madonne, e hai detto che a Genova ci sono moltissime edicole. Io volevo che tu spiegassi un attimo ai ragazzi anche quale funzione avevano le edicole, soprattutto agli incroci dei vicoli, no? No, perché le edicole avevano, poi ha avuto amore, le edicole avevano una funzione devozionale, e per chiamare, importantemente, ma non c'era bisogno, la funzione della comprensione operante, quindi dell'apportione popolare, e per un po' quelli che erano anche presi i vicoli della Genova. Vi ricordate che se oltre alle piccole a Genova, la Genova era una caratteristica di Genova in una città, e quindi chi si mangia il foto? Che foto erano quelli che facevano marinale o carlinico, che scappavano dei pericoli, e fatte volerlo in fondo alla Madonna o ai Gianni generale. Se voi andate, che è una visita mediterranea, a cantare di cantore di Paola, che è pronto qui sopra, e che tira il canteo d'orso, vedete ora, quale è il canteo d'orso. Adesso, vediamo qualche prova, qualche dubbio, ma non è proprio un po'! Adesso, non voi capite, non voi! C'è il canteo d'orso! C'è il canteo d'orso!